Grande successo per la ventunesima edizione di Murabilia, la tre giorni dedicata al giardinaggio che si è conclusa domenica, ha confermato la manifestazione ai vertici del panorama nazionale. La mostra Mercato di Fiori e Piante ha portato sulle mura della città 200 espositori e vivaisti provenienti dall'Italia e dall'estero, 10 mostre e un programma culturale di primo piano con oltre 40 appuntamenti tra incontri, presentazioni di novità editoriali, laboratori e visite guidate. Abbiamo avuto un incontro con gli espositori e devo dire che erano tutti entusiasti. Il pubblico è interessato all'acquisto di piante e non solo di piante e è anche molto numeroso. Soddisfatta anche Lucca Crea che assieme al Comune organizza la fiera. Come Lucca Crea la risposta che abbiamo avuto dal pubblico e dalla città è stata molto positiva, siamo la prima fiera del settore che è ripartita in autunno, il risultato è stato eccellente e quindi per noi è un buon segnale anche della ripresa fieristica, del settore fieristico non solo a Lucca ma in tutta Italia. Quindi il feedback è molto positivo. Intanto si pensa già alla prossima edizione. Quest'anno abbiamo iniziato con le piante tropicali, abbiamo fatto una bella mostra giù nelle serie dell'orto botanico Habitat, poi sono venuti alcuni nuovi espositori di piante tropicali, abbiamo già avuto diversi incontri con esperti a livello nazionale e non solo nazionale per le basi di Murabilia 2023.